reginald e tina siamo in un libro grazie tina sì reginald qualcuno ci sta guardando sì qualcuno ci sta guardando chi ci sta guardando un mostro no è un bambino un bambino ci sta leggendo ci sta leggendo e come legge le parole scritte nelle nuvolette siamo in un libro siamo in un libro troppo forte siamo in un libro siamo in un libro ci stanno leggendo ci stanno leggendo oh senti che idea ora faccio dire una parola al bambino fai dire una parola al bambino eh sì se il bambino legge a voce alta che bella idea che idea buffa pronti banana hai sentito il bambino ha detto oh banana oh il bambino l'ha detto di nuovo banana che buffo vuoi provare tu prima che il libro finisca finisce il libro finisce sì i libri finiscono quando finisce il libro ora guardo a pagina 57 a pagina 57 siamo già a pagina 46 oh no è ora a pagina 47 questo libro va troppo veloce ho ancora tante parole tante storie tante banane io voglio solo essere letto ho un'idea bella idea ciao puoi leggerci ancora spero che funzioni anch'io grazie ciao 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 ciao